Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight e siamo qui con un nuovissimo banner di Memory Defrag con Alice versione Vampira bellissimo davvero quindi questo nuovo banner di Halloween nella parte 2 possiamo dire così questa volta però Elemento Wind quindi abbiamo anche un nuovo cambiamento nella ranking siamo forse dagli Earth e Wind e arrivano quindi Tise e Alice a dar supporto quindi al team benissimo quindi andiamo a vedere subito le loro statistiche abbiamo Alice con 4506 e la dual la doppia spada incredibile ma vero io non mi aspettavo che arrivasse un Alice doppia spada pensate che questa è la seconda Alice doppia spada perché la prima è stata una versione crossing fire un po' di mesi fa e adesso è arrivata anche lei quindi iniziano ad esserci tutte queste Alice versione dual che dire davvero una bomba una bomba poi anche bella vampirella guarda lì come si chiede in posa e poi abbiamo Tise versione tipo gattina con 4461 invece con lo stocco anche lei abbastanza carina devo dire bene quindi andiamo a vedere le loro SS3 e le loro crossing questo sarà un banner davvero importante ve lo assicuro vampire bite del morsa del vampiro allora vediamo subito quindi le SS3 prima singole e poi la crossing quindi vampire bite lancia tipo i pipistrelli tipo e poi ecco il morsa e me l'aspettavo alla fine 17 hit è un po' strana questa crossing perché se notate va dietro al mostro all'inizio in alto almeno questo è buono però poi dopo fa questo ritorno in avanti quindi non lo so è come una sorta di skill range che ritorna da dove è iniziata se andava dietro forse era meglio però perlomeno vedo che svolazza un pochettino va bene adesso invece vediamo Tise come avete visto comunque anche dall'effetto di Alice hanno attack up Alice da 17 hit vediamo invece Tise cosa combina con cat punch rush il pugno del gatto e lei invece vedete termina dietro ecco eccola qui la differenza quindi Alice torna davanti mentre Tise va dietro benissimo quindi ora vediamole in crossing loro due e vedete colpiscono da due punti diversi e poi tornano in due punti diversi quindi Alice torna davanti mentre Tise va dietro 40 hit in crossing beh niente male davvero considerate che hanno attack up e poi mp link sul partner quindi sono davvero ottime davvero davvero ottime quindi che dire ragazzi questo è un banner quasi da scauta scauta più veloce che puoi anche perché allo stesso modo degli elementi fire anche per i personaggi wind c'è sempre stato questo problema che gli mp link sono stati sempre scarsissimi se vi ricordate è uscito un solo banner che era con Alice e Ronnie quello delle wind bride che era l'unico banner mp link per i wind quindi per chi non ha quelle due avere una crossing wind senza mp link è un po' dura anche se ultimamente lo sapete si non made sta spopolando nelle rank però direi che un rinforzo per i wind mi serve anche perché non ho mp link e poi questa Alice dual davvero non si può perdere quindi ragazzi io sono disposto qua a distruggere tutti i miei md per voi però mi raccomando fate attenzione perché il 23 invece ci sarà poi dopo l'anniversario di matrimonio di kirito e asuna quindi per chi vuole aspettare quell'evento magari può stare un pochino fermo cioè aspetto il 23 quando arriva l'anniversario di kirito e asuna e poi vedo se tornare sul banner wind io invece ci do dentro ragazzi quindi partiamo subito penso di poter arrivare fino allo step 3 ma io vorrei trovarla prima se possibile step 1 vai Argo fammi il miracolo per favore dai sti brillantini no non lo voglio i 4 stelle mannaggia oh si oh oddio l'ho testellata il miracolo oh oddio non mi dire che Alice oh oh mio dio oh 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 me l'ho fatto il regalo si si c'è anche silica grazie ma oddio oh solo con 125 oh grandioso ma guarda che bella vuoi oh l'ho fatta proprio bene comunque ragazzi spettacolo spettacolo io non so che dire mi ha fatto il miracolo veramente Argo oh grazie mille Argo io non so cosa dire io wow cioè me la sono cavata con solo 125 io non ho parole ragazzi oh un Franci finalmente fortunatissimo alleluia quindi che dire tutto il resto si spenderà per l'anniversario di Kirito e Asuna mi sembra anche ovvio e ci vediamo quindi con il prossimo video mamma mia che culo devo andare non so devo giocare qualcosa all'otto stasera mi sa ci vediamo alla prossima e da Darknet è tutto ciao a tutti ciao a tutti